Alfabeto interiore, negli anni 80 avevo immaginato in analisi di entrare nel corpo materno e di trovare la nostra prima scrittura. Sono nati circa 2000 studi come questi sulle scritture prenatali, che io ho chiamato transletteratura. La, nella transletteratura, alfabeto degli alfabeti, linguaggio inconscio del nostro sentire. La, l'io e il tu, specchio interiore, bambino, 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 primo vagito, incanto, scritture della natura. Traccia il tuo segno, umano sentire, veglia la tua notte e il tuo giorno. Memoria dell'io. Amore cellulare, embrione marino, cromosomi danzanti, corpi placente, terzo millennio. DNA, 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 volume in movimento, bios, 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 tra il brodo primordiale, planton. Io, alfa, tu, beta, big bang del segno. Amore. 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 Amore.